E' andato in arresto cardiaco dopo aver ricevuto il vaccino, a salvarlo fortunatamente il pronto intervento dei sanitari. Sono stati così veri e propri attimi di paura quelli vissuti ieri nella sede vaccinale di Camucia. Nella palestra che ospita l'hab più importante della Val di Chiana, giovedì pomeriggio un uomo di 40 anni, dopo aver ricevuto il siero Pfizer, si è accasciato a terra nella saletta di osservazione, privo di sensi. I sanitari sono prontamente intervenuti, hanno fatto la rianimazione, massaggio cardiaco, respirazione. Dopodiché il ragazzo ha ripreso le funzioni naturalmente vitali perché c'è stato un attimo che era andato in arresto, ha ripreso immediatamente, nel frattempo era già partita l'allarme come succede secondo le nostre procedure interne, era arrivato il 118, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Donato dove al momento è ancora ricoverato. Non sappiamo, non siamo in grado al momento di dire se quello che è accaduto è in relazione alla somministrazione del vaccino o erano praticamente problematiche di natura cardiaca che comunque il ragazzo aveva, ma non conosciute nemmeno a lui. Quindi adesso si sta indagando perché l'anamnesi era completamente negativa per qualsiasi problema di natura sanitaria. In questo momento mi dicono comunque che sta bene, non ci sono problemi e che viene trattenuto solo per le indagini rispetto a questo accaduto. Sempre nel lab di Camucia lo scorso mercoledì erano state somministrate per errore sei dosi di soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-covid. L'azienda sanitaria si era messa subito al lavoro per limitare i disagi.